Tacuinunde eccellentissimi, tante ricette dedicate a personaggi che si sono distinti nel corso della storia. Tanti percorsi, perché abbiamo i condottieri, i papi, i imperatori, però anche i musicisti. E non a caso, Shadi. Ci abbiamo Beethoven, con i naselli alle erbe aromatiche. Ma pensa un po', ma il pesce proprio abbiamo voluto dedicare, anche se non era un gran gaudente lui. Però appunto. Perché passava tanto tempo davanti al pianoforte, quindi doveva sentirsi anche leggero dopo, perché tornava. Fammi vedere un po' che cosa ci vuole, perché ti aiuto in questo caso. Sì, poi dammi una mano così se ne fanno velocemente insieme e si mettono via. Ci mettiamo i guanti perché il pesce non ha un buonissimo odore. Allora, io ho già preso dei naselli. Sì. L'ho eviscerati, puliti, eccetera, eccetera, svuotati e l'ho già preparati per essere farciti con delle erbe aromatiche. E voi a casa fatevele fare dal vostro pescivendolo di fiducia. No, ma non è difficilissimo. No, è vero perché non è che... Ci si impulsolentiscano un po' le mani, ma il cibo è anche questo. Allora, mettete i guanti. Allora abbiamo fatto questo trito di aglio e prezzemolo. Però anche salvia e rosmarino. Perché giustamente sono i naselli alle erbe aromatiche. Ci potremmo mettere anche del limone. Questi guanti sono un po' grandi, Shadi. Per te sì. Sì, questa è una misura tua. Quindi ci mette anche un pizzico di erbe aromatiche, quindi salvia e rosmarino, insomma. Ovviamente se non avete messo il sale nelle erbe aromatiche, andrebbe messo spalmato all'interno del pesce. È facile, vedi, non è... Si potrebbe mettere anche un pochino di... Limone. Limone. Sì, ci starebbe benissimo. Sopra, dentro. Sbianca le carni. Esatto. E sempre per concludere andremo a mettere queste erbe aromatiche fuori. Sì. Le spalmeremo con un po' di... Poi la ricetta... Prevederebbe. Prevederebbe anche lo strutto da far saltare in padella con del pangrattato e lo strutto. Cioè strutto, pangrattato... Era privilegiato, insomma, qui si parla di tempi del passato, quando l'olio di oliva, insomma, per friggere, per cuocere si usava lo strutto. Esatto. Quindi qui c'è lo strutto. Io prendiamolo un po' per rimanere solo in tema, però lo spalmiamo all'interno. Sì, perché le carni forse rimangono anche più morbide. Sì, come la stessa caratteristica è che può lasciare il burro, anche in questo caso lo strutto lascia le carni morbide. Ma nulla vieta oggi, per una questione di dieta, per una questione di utilizzare l'olio extravergine. Anzi, è mille volte meglio. Anzi, è molto meglio. Fatto questa operazione? Lo concludiamo con il pangrattato che la ricetta vorrebbe saltata in padella con lo strutto, noi lo mettiamo sopra. Noi tendiamo molto ad alleggerire. Il pesce poi non ha bisogno di grandi cotture, più che altro va più insaporito. Sì. Vero? Quindi erba aromatica, aglio, prezzemolo. E poi scenderemo a mettere qualche cubettino di limone sopra. Proprio a cubettini? Sì. Perché il connubio pesce e limone va sempre di pari passo. Ecco qua. E poi lo passiamo? In forno. Le cotture non ha bisogno di grandissime cotture, quindi si può anche andare dai 150 ai 160 gradi per una ventina di minuti, oppure abbassando la temperatura si alza il tempo a mezz'ora. Il pesce se viene messo in forno a alte gradazioni viene aggredito, quindi meglio cotture semplici. Allora ora si può mettere quello. Però noi, giustamente, il piatto Shadi lo ha già preparato, no? E quindi dal piatto dove abbiamo preparato abbiamo il piatto di portata. Quindi vedi, con il nostro pangrattato viene una crosticina croccante sopra. Sì, beato pangrattato, se non ci fosse in cucina si dovrebbe inventare. Però vedi, è un modo per riciclare un... Eh, infatti stavo per dirlo, perché il pangrattato se uno non l'ha in casa, se ha del pane da fermo, lo metti nel cutter e hai ottenuto il pangrattato. Insomma, ecco. E poi lo andremo a guarnire con delle fettine di limone. Mamma mia. Così. E una per dare un po' di... E questo è il tocco del cuoco, eh? Comunque anche questo, piatto velocissimo, semplice e si può dire, togliendo lo struzzo, anche dietetico. E quindi le nostre naselli alle erbe aromatiche, da-dam, di Beethoven, grande musicista.